Un'intera comunità piange il custode delle sue tradizioni, tutta San Costanzo in lutto per la scomparsa di Andrea Triani, anima e cuore della Proloco di cui era presidente dal 2011. La Proloco, vero amore di Andrea, perché seppur gravemente malato e provato nel fisico dalla malattia e dalle cure, giovedì sera ha voluto essere nella sede dell'associazione, insieme ai suoi amici e colleghi, come sempre. Il suo spirito indomabile e l'amore per le tradizioni ed il suo territorio avevano fatto sì che la decana delle Proloco desse un grande contributo e un impulso in termini di promozioni con il suo fare calmo e pacato ma deciso e in grande concerto con la pubblica amministrazione. Guardo la piazza e dico che secondo me la piazza di San Costanzo non sarà più la stessa senza Andrea Triani, perché la piazza è il luogo d'incontro e l'incontro è sempre stato la mission fondamentale di Andrea, così come della Proloco. Non nascondo che Andrea è sempre stato più del presidente di un'associazione di maniera particolare del presidente della Proloco, è stato un collaboratore ed un amico carissimo, veramente. Con lui tantissimi sono i progetti che abbiamo portato avanti e non dico nulla di strano se affermo con assoluta convinzione il fatto che Andrea Triani sia uno di quei personaggi che sicuramente ha dato un contributo determinante alla crescita a mio avviso sicuramente culturale e sociale del nostro paese. Ora rimane la sua grande eredità di fare e promuovere, da portare avanti con un compito gravoso e toccante cui è chiamata la seconda carica dell'associazione, forte anche della grande amalgama che Andrea era riuscito a creare con un'altra delle sue passioni, i giovani. Questi ultimi anni Andrea ha fatto un gran progresso con la Proloco inserito di giovani che tutto sommato ci danno una grossa mano perché è un gruppo molto compatto, è un gruppo a differenza di noi che magari più anziani che qualche volta qualche scaramuccia si scappa su, invece i giovani tutto sommato hanno un bel feeling tra di loro e abbiamo un buon rapporto anche noi con loro. Grazie a tutti.